Diciamo, sull'emergenza, la Commissione ha chiesto una settimana di tempo che è dove è prevista anche la disinvestazione, poi c'è la questione futura che... Della nuova grande, parla dei presupposti più precisi proprio per mettere... Poi adesso c'è questa novità che lei si reci per questa grande cortesia di priorizzare il suo potere come Consiglio Comunale di farlo pubblico, così la esperanza sente questa visione, non deve sentire questa distanza. Le istituzioni servono... Ma questo è un problema. No, noi lo diciamo, perché le istituzioni noi non dobbiamo fare una cosa, io le lo dico apertamente, farvi inviaggere quello che noi non vogliamo mai più. Certo. E allora, se c'è una chiusura e noi... Guardi, non penso che ci sia stata nessuna chiusura. C'è stata, però è anche la gente... E allora voglio dire una cosa, ho smesso di ricevere qualcuno, in qualche caso, quando ho capito che era una strumentalizzazione politica, perché io non sono politica, non voglio fare politica e non mi interessa la politica, io faccio delle scelte e mi innudo, ho visto come il mio, ti auguro che siano scelte in favore della scelte, perché non sono animato né da un interesse di un altro, né dall'altro, né dall'altro, né dall'altro né da un personale. Quindi io accetto la collaborazione, ma non ho notato una, come dire, obiettività nella volontà di collaborare con l'amministrazione, quando ho spesso, non sto dicendo in profondo, in alcuni casi ho notato una certa volta politica, che io non posso accettare, quindi io accetto una collaborazione del cittadino, una partecipazione del bene, che non abbia altre finalità, che che non si fa costruire in una carattera politica di un futuro così, perché hable, no? No.